Noi vogliamo il referendum, perché? Perché innanzitutto crediamo che una decisione quale quella delle Olimpiadi a Roma, visto quanto è successo prima per i grandi eventi nella nostra città, Malagò ben conosce purtroppo gli errori e i grandi sfaceli che ci sono stati. Penso ai mondiali di nuoto, io vicino casa ho una piscina incompiuta, un rudere a cielo aperto, dove tra l'altro è pericolosissimo, per cui c'è anche un problema di inquinamento, tra l'altro generale, c'è un problema di sicurezza. Penso alla stazione a Vigna Clara, mondiali del 90, aperta e chiusa, gettata nel degrado. Penso alle vele, alle famose vele che Malagò ora vorrebbe rinserire nel piano Olimpiadi. Allora, rispetto a questo ci sono state tante iniziative legate ai grandi eventi che non sono state gestite al meglio, tanti soldi pubblici spesi. Se le Olimpiadi siano un'opportunità o meno, io credo che lo siano per un grande paese come l'Italia, ma a condizioni non solo che la città ospitante sia in grado di poterli ospitare anche in termini di infrastrutture, ma soprattutto che ci sia da parte di chi governa il processo, quindi penso al Governo nazionale, al Comune di Roma, al Cone, al Comitato Olimpico, effettivamente una chiarezza di intenti sia riguardo i soldi, sia riguardo le eventuali penali che vanno pagate se tutto quello che si fa poi è quello che vediamo.